Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi siamo un po' più liberi, possiamo andare a mano libera anche perché questa settimana la Juventus giocherà soltanto una partita e sarà venerdì sera contro il Napoli. Sono già abbastanza tesso, devo dire la verità, perché è una partita che sto sentendo. Era un pezzo che non sentivo così tanto una partita in Serie A, devo dire la verità. Anche l'attesa, l'ansia, proprio perché venerdì sera possiamo mettere a posto una classifica che non pensavo di poter vedere un paio di mesi fa, tre mesi fa, perché vedevo tutto nero. Ero completamente negativo, non ho ben idea di cosa sia effettivamente accaduto alla Juventus, se effettivamente è caduto qualcosa. Io ho già dato la mia versione in più di un'occasione, sono stato anche forse un po' complottista nel dire che secondo me o qualcuno aveva giocato contro o addirittura non era stata, che forse è peggio addirittura, è già una cosa grave, o non era stata presa bene dai giocatori e dall'allenatore questa stagione, nel senso che avevo spesso la sensazione di vedere una squadra che si vincesse, che si perdesse, che si pareggiasse, dava tutto bene, era tutta la stessa cosa. Ricordo anche partite brutte come il pareggio con la Sampa la seconda giornata, brutte non perché sono state solo brutte da vedere, ma non c'è stato nemmeno niente di efficace, se non un paio di occasioni arrivate all'ultimo secondo e sembrava andare bene, sembrava potesse essere una cosa normale. Dopo un anno in cui con lo stesso allenatore la Juventus non aveva proposto granché, non era arrivata a risultati ed era riuscita semplicemente a fare una rincorsa in Champions, perché comunque anche le altre intorno non erano riuscite a tenere il passo che magari avevano precedentemente. È ovvio che l'augurio è che possa essere la stessa cosa quest'anno, anche nei confronti del Napoli, è che il Napoli possa iniziare a perdere un pochino di terreno e che la Juve possa approfittarne. Adesso otto vittorie di fila con otto partite senza prendere gol, qualcosa vogliono dire. Non stiamo parlando dell'impresa più grande della storia del calcio, perché non è assolutamente così, però sicuramente queste ultime otto Juve di Serie A sono squadre mentalmente, secondo me, diverse, principalmente, perché a livello poi di concreto dentro il campo, sì, è cambiata l'impostazione tattica, è cambiato il modo di approcciare la partita, è cambiato il modo di schierare i calciatori, però il grosso è rimasto quello, tranne in una cosa, che probabilmente siamo un po' più fortunati, ma quella fortuna ce la stiamo, secondo me, creando da soli, perché ora davvero si vede la differenza tra giocatori che vogliono vincere e giocatori invece che in precedenza mi danno l'impressione, e anche allenatore, anche nelle parole, allenatore e giocatori che ora vogliono vincere. E prima l'importante era fare la partita, poi come veniva, veniva. Questa è la mia personale lettura, è la mia sensazione che mi ha dato questa Juve, che cercava di giocare a targa alterne, che da un momento all'altro sembrava avere blackout, per me la partita con la Salernitana, che per tanti rimane solo lo scandalo, anche per me è stato abbastanza scandoloso quello che è accaduto, ma principalmente è stata la partita che mi ha fatto iniziare a ragionare, perché il primo tempo che abbiamo visto, il secondo tempo che abbiamo visto, sembravano due squadre diverse. E non è possibile, cioè non è possibile, se è un problema di limite tecnico di calciatori e allenatori, passare da un primo tempo a un secondo tempo di quel livello lì. Come ne abbiamo visti tanti, anche con la Fiorentina, a Firenze, per i miei 20 minuti, in cui sembri la squadra più forte della Galassia, e gli ultimi 70 in cui sembri una squadra delle tanti. Se quello non è testa, se quello non è voglia, se quello non è mentalità, atteggiamento, io non so cos'altro possa essere. Quindi questa è un po' la lettura che do a questi primi mesi di Juventus, e quindi dato che ora la Juve sembra una squadra mentalmente più forte, da tifoso della Juventus, mi attendo che a Napoli si cerchi di andare a fare risultato. Dicevo anche l'altro giorno, secondo me invece si cercherà un approccio un po' più prudente, con in primis l'obiettivo di non perdere, poi se si vince molto bene, ma se si pareggia non è un dramma. Spero che non sia questa la chiave di volta, la lettura da parte dell'allenatore, ma possiamo soltanto attendere. Le dicevo oggi un po' più liberi perché comunque domani sarà già vigilia e ci sarà già la conferenza stampa della vigilia, e quindi andremo a commentare, ad analizzare, ad ascoltare le parole di Massimiliano Allegri, cercheremo di farci anche un'idea su quella che potrà essere la formazione, anche se non mi aspetto chissà quali sorprese, credo che si andrà a seguire la linea guida come visto nelle ultime due partite tra Cremona e Udinese. Io più che altro oggi vorrei cercare insieme a voi di analizzare un po' sia i dati della Juve sia i dati del Napoli, una cosa che solitamente non facciamo proprio perché abbiamo tante partite ravvicinate una all'altra, invece stavolta possiamo probabilmente respirare un pochettino, e quindi Juventus e Napoli, prima e seconda in classifica, 44 contro 37 punti, il Napoli ha segnato 13 gol in più di noi, ma ha anche subito 7 gol in più di noi. Juventus, capocannoniere, Vlaovic, che mi fa sempre un po' ridere sta cosa perché in questo momento Vlaovic è etichettato come pacco, cioè io ho anche la sensazione che ho quando facciamo le dirette, perché tanti commenti parlano di questa cosa, e leggo che Vlaovic è un sopravvalutato, Vlaovic dovrebbe essere ceduto, che cosa ne pensi di cedere Vlaovic per prendere quello? Perché Vlaovic gioca in una squadra che notoriamente crea poche occasioni da gol, perché questa Juventus, nonostante le otto vittorie di fila, è una squadra che se devi cercare di analizzarla crea poche occasioni da gol, ne concede anche poche e quelle che concede solitamente non si trasformano in gol, perché? Perché abbiamo anche dei partiti di ottimo livello, quindi questo è un po', secondo me, il quadro generale della Juventus. Questi sei gol Vlaovic li ha fatti nelle prime partite di campionato della Juventus, dove la squadra era anche in crisi, perché se andiamo ad analizzare le nove partite precedenti alle otto vittorie consecutive, la Juventus era un'altalena, come stavano dicendo poc'anzi, quindi un giocatore che gioca in una squadra che crea poche occasioni da gol, che molte volte viene abbandonato al 2 contro 1 dei difensori centrali avversari, perché gli altri 10 giocatori tendono a non salire troppo per coprire un po' di più, e li ha fatti nel momento più duro, più nero di questa squadra, questi sei gol. Io non me la sento di etichettare Vlaovic come bidone, sovravalutato, giocatore a cedere, io in Vlaovic ho ancora tante speranze, e non vedo l'ora che possa tornare, anzi, andare a affrontare una partita come quella di Napoli, probabilmente poi vedremo se cambierà qualcosa senza Vlaovic, e Pogba poi mi dispiace. Poi secondo posto Milica, il terzo posto Ken, quarto posto Rabiot, e poi addirittura Fagioli, e poi quelli con un gol. Andiamo a vedere il Napoli, perché il Napoli è al primo posto, Osimene capocanoere con 10 reti, pericolo principale, perché poi c'è un distacco abbastanza netto, Kvara è al secondo posto con 6 reti, poi c'è Elmas, Azzelinski, Lozano, Politano, bla 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 bla. Insomma, Napoli sicuramente è una squadra che dal punto di vista offensivo genera più pericoli rispetto alla Juventus, che va in gol con più giocatori, e sicuramente ha in Osimene il punto di riferimento offensivo al quale dobbiamo prestare particolare attenzione, perché abbiamo visto anche l'altro giorno, in campionato proprio con la Sampdoria, basta un pallone messo dentro all'area di rigore, e Osimene lo trasforma in un pericolo, in un gol. Ovviamente questi dati non ve li avevo detto, ma trovate il link qui sotto in descrizione, il sito è quello di Soccerment, ormai lo conoscete abbastanza bene, ne abbiamo già parlato in più video, comunque vi lascio qui sotto in descrizione tutti i link per andarvi a vedere anche voi queste statistiche. Voglio confrontare anche le due squadre, il Napoli è in verdino, come potete vedere, la Juventus è in azzurrino, la Juventus ha appunto più clean sheet, potete vedere qui, la Juventus ha concluso più partite con dei clean sheet, e questo vale anche per via dei sette gol, che abbiamo preso in meno rispetto agli avversari, ed è l'unica vera statistica in cui la Juventus è superiore al Napoli. Poi abbiamo quella dei recuperi, qui Juventus e Napoli sono abbastanza vicini, quindi sono squadre che comunque solo copro palla giocano una buona partita, e poi ci sono dei dati carenti, dei dati carenti in tutte le altre statistiche che bene o male vanno a riguardare le statistiche un po' più offensive, come i passaggi, e magari bisogna poi dividere in passaggi, appunto vedete come fanno qui, nella metà campo avversaria, infatti questi sono i passaggi nella metà campo avversaria, e il Napoli è una squadra che gioca molto più palla nella traquarta avversaria, che è dove nascono i pericoli, dei tiri in porta al bersaglio, la Juventus becca la porta a meno, anche rispetto al Napoli, che comunque tira anche di più nella totalità, nei gol ovviamente, ma questo lo sapevamo, queste due statistiche sono in contrapposizione, la Juventus ha subito 7 gol in meno, il Napoli nel segnato 13 in più, e nei dribbling, noi storicamente quest'anno siamo una squadra che dribbla veramente poco, invece il Napoli, con quei giocatori anche brevi linei agli esterni, del Tridente o del 4-2-3-1, quando giocano col 4-2-3-1, sono portati anche a cercare di saltare l'uomo e a creare superiorità numerica, quindi queste sono un po' le differenze delle due squadre, se prima parlavamo di una Juventus che crea notoriamente poco, e subisce poco, e quel poco che va a subire, poi viene salvato spesso e volentieri dai portieri, il Napoli invece è stata dipinta quest'anno come una delle squadre che gioca meglio in Europa, infatti anche in Champions ha fatto direi discretamente bene, passando un girone molto complicato sulla carta, dove addirittura ha battuto il Liverpool, quindi veramente stiamo parlando di una squadra che quest'anno ha dimostrato tantissimo, veramente dimostrato tantissimo, in Serie A è assolutamente l'unica squadra che può perdere lo scudetto, l'unica squadra che in questo momento può considerarsi una vera e propria inseguitrice, anzi l'unica vera e propria candidata, senza inseguitrici, però deve stare attenta, deve stare attenta al Napoli perché? Perché se andiamo a vedere un po' le ultime partite, il Napoli li ha dominati quasi tutti, 4-0 a Sassuolo, 2-1 all'Atalanta, 2-0 all'Empoli, 3-2 all'Udinese, 2-0 alla Sampo, e poi c'è quella specifica partita, la prima del 2023, che ci porta a fare tutto questo discorso, che è Inter-Napoli, l'Inter vince contro il Napoli col gol di Dzeko, quel gol di Dzeko vale tre punti, gli 1-0 sono pesantissimi, perché se andiamo a intrecciare questo 1-0 di Inter-Napoli e tutti gli 1-0 che abbiamo conquistato noi, capite bene che stiamo parlando di un equilibrio abbastanza precario, però il Napoli fino adesso è stata una squadra che giustamente può vantarsi di essere la squadra da battere, ma nell'ultimo scontro diretto giocato ha perso la partita, è quella partita singola persa, perché ha perso una sola partita all'interno di questo campionato, può rimettere tutto in discussione e se la Juventus riuscirà nell'impresa di vincere a Napoli. Poi, io ripeto, sono un po' non dico pessimista, perché non è che sia pessimista, anzi vi dico la sensazione che ho è quella di non perdere a Napoli, se proprio devo dirvi la verità. Dall'altra parte vi dico che ho anche la sensazione di non vincere, proprio perché secondo me il pareggio diventa il risultato più scontato possibile, in assoluto, e anche più probabile, per quanto mi riguarda, perché credo che al Napoli il pareggio vada bene, perché ovviamente preferiranno vincere come preferiremo vincere noi, ma hanno un vantaggio talmente grande che per loro diventa un problema perdere. E a meno che la Juve non sia così brava da riuscire a creare una partita di un certo tipo, in cui riesce ad andare subito in vantaggio o addirittura a raddoppiare nei primi minuti, temo che il Napoli non andrà a subire i gol verso la fine come magari hanno fatto Cremonese e Udinese, perché arrivando al limite del tempo di gioco il Napoli potrebbe benissimo dire allora sapete cosa abbiamo fatto, magari non siamo riusciti a sfondare la porta da Juve o ci siamo riusciti, loro sono riusciti a riprenderci, cerchiamo di non scoprire il fianco, perché perdere questa partita significa perdere sei punti nei confronti della seconda e riaprire un campionato e prima vi parlavo di equilibri mentali, non solo di equilibri nei risultati, equilibri di un gol di scarto, ma mentali, quello che secondo me è cambiato tanto nella Juve è la testa. Se il Napoli nel giro di tre partite dovesse riuscire a perdere due volte contro Juve e Inter, riaprendo un po' il discorso del campionato, questo potrebbe essere un problema. Per una squadra storicamente non abituata a lottare per il titolo fino alla fine o concretamente, o vincere il titolo, che si ritroverebbe in una situazione in cui quattro punti sono sì tanti, ma nemmeno troppi, considerato tutto un girono di ritorno a giocare. Quindi secondo me ha molto più da perdere il Napoli rispetto alla Juventus, ed è per questo che vi dico io non me la giocherei per pareggiare, perché il pareggio è palesemente un risultato che va a favore del Napoli, che converrebbe più al Napoli. E quindi mi auguro che davvero questo processo, questa evoluzione nell'atteggiamento e nella voglia di portare a casa le partite e i risultati nella testa di Allegri possa far sì che venerdì si vada a Napoli per vincere, che ci sia un unico risultato. Perché noi dobbiamo riabituarci, dobbiamo veramente riabituarci a pensare che la Juventus non può soltanto arrivare quarta nei campionati, non può soltanto arrivare in finale nelle coppe, non può soltanto passare il girone di Champions e addirittura uscire al girone e va tutto bene. Non possiamo più, dobbiamo riabituarci al fatto che Juventus significa vittoria o perlomeno provare la vittoria. Se poi non ci riesci perché quegli altri sono più forti, alzi le mani, però tu devi dare tutto quello che puoi per cercare di vincere. Ora, concludo il video dicendo è vero che il Napoli gioca meglio a livello estetico, cioè se guardo una partita del Napoli e guardo una partita della Juve mi diverto decisamente di più a guardare una partita del Napoli. Però anche ieri nei commenti mi sono ritrovato un commento, mi sono dimenticato di ritagliarmelo, però guardate provo a cercarvelo in diretta, voglio veramente leggerlo insieme a voi perché mi ha dato veramente fastidio leggere una roba del genere. Ecco qua, Maurizio Verde, ciao Maurizio, non so se ci stai guardando, dice Amico mio, la Juventus deve perdere per il bene del calcio perché se mai dovesse vincere col Napoli e vincere lo scudetto sarebbe la dimostrazione che un brutto gioco vince e allora addio gioco spumeggiante, addio Barcellona, addio Real, addio lo spettacolo, chiediamoci e vinciamo, chiudiamoci e vinciamo, lui ha scritto chiediamoci e mai chiudiamoci, chiudiamoci e vinciamo, diventerebbe la soluzione per non perdere, addio bel calcio. Io credo che questi discorsi siano veramente privi di significato, privi di significato, perché allora significa che chiudiamoci e vinciamo è la soluzione più efficace per vincere rispetto al bel calcio, non vuol dire niente, la Juve può vincere a Napoli, la Juve può pareggiare a Napoli, la Juve può perdere a Napoli, possono succedere tutte e tre le cose, non ci sarà mai una variabile universale per cui giocare bene rende di più, chiudersi rende di più, ci sono delle situazioni, ci sono dei giocatori, delle squadre ai momenti delle annate, degli incastri, delle partite, degli scontri diretti in cui una cosa può funzionare e una cosa può non funzionare, se no tutti giocherebbero quel tipo di calcio, tutti, perché quello è il calcio che ti fa vincere, perché non prendiamoci in giro, non prendiamoci in giro, non prendiamoci in giro, le squadre o comunque le grandi squadre partecipano alle competizioni e ai campionati per vincere, poi ci arrivi in un modo, ci arrivi in un altro, ci arrivi in un altro ancora, non mi interessa, chi partecipa e partecipa delle grandi squadre partecipa per vincere, se si vincerà Napoli con un autogol, se si vincerà Napoli con un contropiede, se si vincerà Napoli con una prestazione degna di nota, se si vincerà Napoli con fortuna, se si perderà Napoli con sfortuna, se si perderà Napoli perché saranno superiori, se si perderà Napoli perché non saremo bravi noi, comunque sono tre punti, comunque sono un punto, comunque sono zero punti, non cambia niente, cambia nel modo di approcciarsi dell'allenatore, può piacere, può non piacere, io, e non ve l'ho mai nascosto, lo sapete bene, qui sui canali anche quando vinciamo vi dico la partita mi è piaciuta, non mi è piaciuta per questo o per questo, le due vittorie cremonese e udinese per me sono due vittorie diversissime, seppur arrivate per 1-0 e tutte le volte alla fine della partita analizziamo quella che è stata la partita, ne parliamo, nessuno vuole nascondere niente, nessuno vuole esaltare un tipo di gioco piuttosto che un altro, l'importante però è arrivare ai risultati, tanti dicono la Juventus da inizio anno ad oggi non è cambiata neanche con la striscia di 8 vittorie di fila perché comunque gioca male, e beh ragazzi una cosa però va detta, che la Juventus ha sistemato la fase difensiva, l'ha sistemata ammazzando tra virgolette con l'offensiva probabilmente sì, probabilmente sì, però quando prima parlavamo che il Napoli ha segnato 13 gol in più ma ne ha subiti 7 in più, perché giocare bene è limitato la fase offensiva, difendere bene non fa parte del giocare bene o difendere in tanti perché la Juve secondo me difende in tanti ma adesso difende bene a differenza dell'anno scorso che difendeva in tanti e difendeva male, quindi questi sono veramente discorsi che non valgono niente, non valgono nulla, venerdì sera ci sarà una partita, durerà 90 minuti, ci saranno due filosofie differenti a confronto, vada come vada, vinca il migliore quello che volete ma spero che vinca la Juventus, spererò sempre che vinca la Juventus, non mi frega niente di dire dobbiamo perdere perché sennò poi il bel calcio è il calcio spettacolare tutti pensano ma siamo fuori di testa ma siamo arrivati secondo me decisamente alla follia abbiamo oltrepassato un limite che non andava oltrepassato.